buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme questa giornata di giovedì 29 agosto 2024 e vediamo chi è il santo del giorno anzi vediamo che si festeggia sì un santo ma anche un evento ed era un evento drammatico eccolo qua il martirio di san giovanni battista giovanni il cugino di gesù figlio di elisabetta fu giustiziato lo mai lo sappiamo perché insomma quando andiamo alla messa quando leggiamo il vangelo sappiamo benissimo la sorte di giovanni fu decapitato da erode antipa figlio di erode il grande fu decapitato su richiesta di salome la figlia di erodiade moglie del fratello di antipa divenuta la sua amante giovanni aveva rimproverato questo legame per questo fu mandato a morte dopo essere stato rinchiuso nella fortezza di maccheronte i musulmani conservano il capo di san giovanni e battista nella moschea degli omadi a damasco è una reliquia che insomma si trova o si trovava all'interno di questo grande complesso della moschea che è una delle meraviglie almeno per quanto riguarda l'arte islamica del medio oriente vediamo ora le previsioni del tempo anche oggi una giornata all'insegna della stabilità sulle marche con tempo asciutto e solleggiato al più con un po di blanda nuvolosità fa caldo la temperatura raggiungerà i 31 gradi per quanto riguarda la massima e si è attestata a 22 per quanto riguarda la minima i venti sulle coste espireranno da nord e nord ovest nell'entroterra da nord est il mare è calmo il sole è sorto alle 6 e 26 e tramonterà alle 19 e 50 allora ci ho detto passiamo alla lettura dei giornali a partire dal corriere adriatico oggi dove vediamo che c'è un articolo per quanto riguarda un nuovo articolo che riguarda gli scavi di piazza andrea costa che sono saliti alla ribalta in molti giorni in questi ultimi tempi trovate tracce del cardo maximus avanti con gli scavi e con il cantiere ebbene alla fine le tracce del cardo la cui esistenza e il cui percorso costituivano uno dei principali obiettivi di questo scavo sono state ritrovate si sono state ritrovate non molto lontano dalla pescheria in questo secondo settore che si sta scavando dalla pescheria a via montevecchio in che senso sono state ritrovate le tracce sono state ritrovate soprattutto la fogna che smaltiva l'acqua al di sotto della strada e si sa quando c'è la fogna sopra c'è la strada comunque i basoli non erano ancora non erano più in sito erano sparsi un po nei dintorni quindi la via vera e propria non è stata trovata ma la traccia della sua esistenza e anche della sua direzione ebbene questa è stata trovata sono state trovate poi altre cose di interesse archeologico guardate questa fotografia è una scalinata pertinente alla cripta della chiesa di san daniele che andrà giù probabilmente non si andrà a fondo quindi la cripta non sarà scavata è una cripta medievale la volta era sarà rimasta intatta era frescata insomma non si sa questo è un mistero che rimarrà almeno per il momento insoluto ebbene gli scavi comunque procederanno ieri e sono stati visitati dalla funzionaria della soprintendenza Ilaria Venanzoni insieme all'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari i lavori procederanno dopo il 15 settembre si inizierà a ricoprire il tutto con una soletta in cemento e poi ovviamente si sposteranno tutti gli ambulanti nel vecchi nei vecchi settori già scavati per procedere nel terzo settore forse quello più interessante perché lì non ci sono state costruzioni successive all'epoca romana quindi probabilmente qualcosa di interessante verrà alla luce sopralluogo della soprintendenza l'assessore Ilari esigenze soddisfatte prosegue il progetto della piazza vediamo ora un altro articolo di apertura si parla delle celebrazioni per la liberazione di Fano che quest'anno hanno commemorato l'ottantesimo anniversario non senza polemiche peccato peccato che questo avvenimento che dovrebbe un po' riunire tutti i fanesi perché la liberazione di Fano è un fatto storico veramente importante purtroppo desti ancora polemiche di carattere politico ebbene sono polemiche che ancora rendono viva l'appartenenza il senso della democrazia che magari non è ben condiviso al giorno d'oggi ma che da allora anima appunto i fanesi il sindaco Sir Filippi ignora la resistenza e non cita mai l'opressione nazifascista ebbene il discorso del sindaco Sir Filippi poche parole che il sindaco ha pronunciato al pincio dopo che alcune persone con le divise militari di allora quelle dei polacchi che hanno liberato Fano avevano affisso una corona dall'oro alla lapide che ricorda appunto l'ingresso delle truppe del generale Anders le truppe liberatrici ebbene ha citato ha parlato brevemente ha citato i valori della pace della libertà della democrazia ma secondo appunto coloro che amano soprattutto il periodo o amano i valori della resistenza ebbene questa parola la costituente i partigiani non sono stati menzionati piovono critiche sul discorso pronunciato da Sir Filippi pur con diversi accenti nella sostanza sia l'associazione partigiani lampi sia alcune forze politiche dell'opposizione abbiamo la lista in comune il partito democratico insomma non condividono insomma il discorso che ha fatto Sir Filippi il discorso non ha fatto mai alcun accenno riferimento al ruolo e al contributo dei partigiani della resistenza ne è stato mai specificato da chi o da che cosa l'Italia e Fano siano state liberate insomma dall'occupazione nazifascista ebbene le polemiche speriamo che si contemperino ma questi valori questi valori devono restare sperando che uniscano i fanesi e non li dividano vediamo le altre località passiamo a Fossombrone a Fossombrone c'è un grande investimento di una ditta privata in una zona specifica una zona che si trova nei pressi dello stadio comunale rispetto alla quale si accede alla frazione di San Martino del Piano procedendo nella direzione Montemare qui si assiste ad una trasformazione c'è una trasformazione importante perché c'è un investimento di 2 milioni di euro sono soldi che serviranno per spostare per rendere più sicura la viabilità e quindi la riqualificazione viaria e quindi per realizzare un impianto commerciale di importanza rilevante si tratta di un centro commerciale Conad che sarà realizzato entro 18 mesi dall'approvazione definitiva del piano di lottizzazione quindi veramente un investimento ingente da parte di una ditta privata torniamo un attimo a Fano torniamo un attimo a Fano perché c'è un articolo di un sindacato è la Filt CGL che rimprova l'amministrazione comunale a cui il sindacato stesso si era rivolta perché non presta la dovuta attenzione al problema degli autisti degli scuolabus tra poco inizia il nuovo anno scolastico e spesso questi autisti non ricevono lo stipendio dalla ditta presso la quale sono stati assunti è una ditta del sud Italia il Comune si era fatto garante del pagamento degli stipendi sembra che al momento gli stipendi sono stati pagati solo relativamente al mese di giugno quindi abbiamo ancora luglio e agosto da dover saldare e il Comune dovrebbe anticipare questi soldi per poi rivalersi presso la ditta che ha assicurato il servizio sono condizioni minime ha detto il sindacato che vanno garantite nel rispetto di chi lavora e sono lavoratori ovviamente che non possono lavorare gratis perché devono sostenere le loro famiglie Amarotta stoppa la movida fracassona chiediamo più controlli i residenti di via Carducci segnalano liti violente rumori di bottiglie rotte degrado vicino all'hotel Europa e chiedono più controlli e più presenza degli agenti della polizia locale vediamo a Mondolfo c'è un problema di viabilità nella zona del centro storico c'è un divieto di svolta destra per chi proviene da via Toscanini e si mette in via Marconi in direzione del parcheggio dello Sferiterio ebbene questo divieto frequentemente è aggirato degli automobilisti che si dirigono verso la zona dell'ex ospedale Bartolini gli stessi paletti sparti traffico fatti per collocare fatti collocare dal comune appunto per indirizzare nella via giusta gli automobilisti sono stati un po' rovinati perché poi gli automobilisti scelgono la via più breve e quindi deregono dalle norme in vigore vediamo anche la pagina di Senigallia abbiamo una ricetta che insomma valorizza un alimento chiamiamolo così un problema invece che riguarda il mare è quello costituito dal granchio blu il granchio blu è un problema per i pescatori mangia le vongole rompe le reti però insomma per i ristoratori è anche l'ingrediente di un piatto veramente buono, eccezionale il killer dei mari così viene chiamato il granchio blu è un piatto diventa un piatto stellato ebbene lo chef Cedroni lo chef stellato Moreno Cedroni ha elaborato una ricetta che nobilita appunto questo abitante dei mari che da problema può diventare veramente una risorsa passiamo alla pagina pesarese eccola qua si parla si parla dell'auditorium da sfruttare per affari e per congressi ma siamo ancora nel limbo sul turismo l'albergatore Oliva manda un messaggio al comune e all'Aspes nel weekend c'è stato un ingorgo di eventi centinaia di presenze con le gare di ballo ebbene siamo alla fine di agosto inizio di settembre ma soprattutto Pesaro come capitale nazionale della cultura è ancora in così diciamo così è ancora invischiata a tante tante iniziative magari anche con comitanti che magari confliggono tra loro ebbene una concentrazione non stop di iniziative manifestazioni ritorni senza soluzioni di continuità vediamo di elencarne qualcuna c'è un'attesa per Kagami la performance concerto a veneristica fiore all'occhiello della capitale della cultura bene le musiche di quest'autore giapponese sono veramente stupende poi abbiamo il ritorno della mezzanotte bianca dei bambini ancora Pesaro Challenge con la concentrazione di prove sportive la festa dell'unità a Baia Flaminia con i suoi ospiti e poi ancora abbiamo delle iniziative organizzate dall'associazione Dance Dance Mania con la supervisione dell'albergatore stesso Fabrizio Oliva che porteranno nel fine settimana centinaia di presenze insomma veramente Pesaro per tutto il mese di agosto ma anche nel mese di luglio è stato veramente un fermento una grande attività è stata una grande attività di manifestazioni una su tutte il ROF che ha portato ha portato molte molte presenze qualificate nel nostro territorio un articolo monografico sulla mezzanotte bianca dei bimbi che è pronta ad invadere il centro un nuovo palco è stato allestito attorno alla biosfera che dovrà essere spostata e poi programmate anche visite al museo Rossini e anche i bambini possono essere così attratti dalla visita di questo museo la Tari vale oltre 20 milioni ed è la cifra che il comune di Pesaro si appresta a pagare a Marche Multiservizi anche in virtù del ritocco delle teriffe due sono i passaggi che hanno portato alla determinazione di questo aumento della cifra che il comune pagherà a Marche Multiservizi ebbene prima di tutto la presa d'atto in aprile del servizio integrato dei rifiuti per il bienio 2024-2025 trasmesso all'assemblea dell'ATA l'ATA lo sappiamo è l'autorità d'ambito e poi c'è l'approvazione delle nuove tariffe dell'Atari che hanno subito un incremento medio del 4% e questo a carico dell'utenza ecco perché appunto occorre pagare di più occorre pagare di più Marche Multiservizi per il servizio dei rifiuti braccio bloccato nel rullo trasportatore una notizia di cronaca che si è verificata ieri mattina in un'azienda di Villa Fastigi che produce calcestruzzo un operaio un operaio intorno alle 8.45 di ieri mattina ha subito questo infortunio è rimasto coinvolto un operaio di 40 anni che aveva da poco iniziato il turno del lavoro l'uomo è rimasto con l'avambraccio intrappolato nel macchinario che trasportava degli inerti per la miscelazione del calcestruzzo e quindi ha subito un grave un grave danno ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona vediamo anche la pagina di Urbino sul Corriere Adriatico smantellata una rete di spaccio scatta l'arresto di un 44enne aveva con sé coca e ascisce una base logistica fermignano gli indagati usavano mille mille precauzioni ebbene la base operativa di questo traffico di droga era un'abitazione nel comune di Fermignano dove avveniva gran parte delle cessioni di droga dove veniva in gran parte della vendita dello smistamento delle dosi gli incontri per la consegna dello stupefacente erano brevi e pianificati con la massima cura spesso preceduti da comunicazioni criptiche insomma difficilmente associabili al traffico della droga e poi c'erano meticolosi controlli delle aree circostanti per evitare di essere sorpresi proprio nel momento in cui si cedeva la dose e si riscuotevano i soldi ebbene però alla fine gli indagatori insomma la polizia le forze dell'ordine diciamo meglio sono riusciti ad individuare due extra comunitari marocchini uno dei 44 anni residente a Fermignano disoccupato ed un altro un 25enne residente a Rimini qui sono state applicate due misure cautelari la più penalizzante riguarda il 44enne che è stato portato in cacere e poi il secondo invece è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed ora passiamo all'esame del resto del Carlino dove l'articolo di apertura è un articolo che riguarda lo sport anzi diciamo meglio i guai dello sport i guai che coinvolgono e sono mai diversi l'alma Juventus Fano gli ex giocatori diffidano il club il club devono avere i soldi non hanno ricevuto lo stipendio che era loro dovuto nove di loro e due allenatori si sono rivolti all'associazione italiana calciatori e all'avvocato schiavoni per avere gli stipendi secondo il diritto sportivo adesso la società Alma Juventus ha 15 giorni di tempo per saldare i debiti che in totale ammonterebbero ad una cifra oscillante tra i 50 e i 60 mila euro dopodiché in caso di mancato pagamento si aprirà una vertenza presso il collegio arbitrale della Riga Nazionale di Lettanti questo è il collegio arbitrale che sostituisce la vecchia commissione economica che dovrebbe nel giro di tre mesi prendere la decisione di riconoscere o meno la legittimità delle richieste dei giocatori e di questi due allenatori insomma è un problema che si associa agli altri problemi che sono stati in carico alla società vi ricordiamo le bollette dell'acqua non pagate poi abbiamo altre disavventure insomma questa società che disputa le sue squadre a Fermignano è veramente in preda a tanti tanti problemi anche il resto del carlino evidenzia la protesta elevata da alcune associazioni per quanto riguarda il discorso del sindaco pronunciato in occasione dell'ottantesimo anniversario della liberazione di Fano un fatto di cronaca che per fortuna si è risolto senza gravi conseguenze ieri una barca a vela si è arenata nei pressi della spiaggia del Lido di Fano è un'imbarcazione di 14 metri che si è incagliata nella sabbia al suo interno c'era solo un passeggero subito sono state avviate le procedure di soccorso e a trarla dai guai sono state due imbarcazioni private che sono riuscite a disincagliare il natante e riportarlo a largo poi insomma è rientrato in porto ebbene tutto questo è stato così visto con curiosità magari anche con qualche apprezzione da parte dei turisti che ancora ieri affollavano la spiaggia del Lido si chiude il cantiere in piazza Costa ritrovato un capitello afferma il metto in evidenza diciamo meglio il resto del Carlino la città sotterranea rivela i suoi tesori i lavori entro la stagione delle piogge dovranno così iniziare magari concludersi tornerà il mercato soddisfatta anche la Confcommercio per quanto riguarda le decisioni che sono state assunte dall'amministrazione comunale e vediamo un po' un consultivo del turismo che fanno gli operatori di Marotta estate calda troppo calda presenze fredde un po' diminuzione quindi sono freddine ma reggiamo dicono i concessionari di spiaggia Cesare Rossi presidente dell'associazione Bagnini di Marotta fa il punto sulla stagione in corso si organizzino più eventi a settembre perché settembre è un mese bello quando c'è bel tempo ovviamente ma bello buono propizio per aumentare le presenze turistiche nel nostro territorio e fin quanto non cominciano le scuole c'è questo periodo ancora in cui le famiglie possono passare qualche giorno di vacanza nelle nostre spiagge mezzi regalati no io ho pagato le spese parla il padre della fidanzata del sindaco di terre Roveresche è Floriano Agostinelli titolare della ditta di rotamazione smaltimento la ferro adriatica di Agostinelli Floriano è lui che ha comprato per un prezzo simbolico 0,1 euro quindi un centesimo quei mezzi di proprietà del comune che il comune aveva considerato inservibili e quindi avrebbe dovuto spendere soldi per smaltirli oppure per rimetterli a posto non servivano più e quindi li ha ceduti appunto qui abbiamo il sindaco Antonio Sebastianelli che ha assunto questa decisione e ora dovrà un pochino chiarire un po' quello che ha fatto sulla pagina di Urbino abbiamo un'intervista all'assessore all'urbanistica Giulia Volponi che ora si accinge a così redigere un nuovo piano regolatore della città i piani precedenti ha detto erano frutto delle loro epoche Urbino è cambiata è mutata ha avuto anche un suo riconoscimento come provincia effettiva a livello territoriale e quindi occorre un nuovo piano urbanistico il nuovo sarà il risultato di scelte politiche e del coinvolgimento della società ha dichiarato ma parliamo questo è un po' per quanto riguarda il futuro per quanto riguarda invece il presente parliamo della festa dell'Aquilone che è giunta alla 69esima edizione il primo appuntamento è oggi alle ore 16 al collegio Raffaello per dipingere le comete di stoffa ed è stata svelata la giuria la giuria sarà composta da Daniela Capponi presidente di Urbino Servizi Giacomo Alessandroni Maurizio Bianchini che sono esperti di grafica Enzo Fucili ed Attiglio Fini esperti di Aquiloni e Giorgio Focarini che è un artista questa è la composizione della giuria che giudicherà qual è l'Aquilone più bello quello che si involerà più in alto nel cielo di Urbino insomma che desterà la meraviglia di tutti i presenti in questa bella festa e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il Tg di Occhio alla notizia di Fano TV intanto vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a domani a dare